Max Verstappen, un fantastico lavoro per te oggi, credo. Ma aspettavate Giordi Orreola così veloce nel finale? No, non Orreola, perché nel pre-finale ha fatto un 6 e io ho fatto un 5, quindi ho detto che un 10 più veloce è sufficiente, ma nel finale era davvero veloce. Quindi ho dovuto guardare qui, perché mi voleva passare, e lo ha fatto anche nel secondo lap, perché ho avuto un problema con il carburatore, perché non aveva il settore. Poi, dopo, lo scelto e poi era bene. Dice che non se lo aspettava così veloce Giordi Orreola, poi ha anche avuto un problemino con la carburazione e di conseguenza ha dovuto riparare questa cosa, ma poi tutto è andato per il meglio. Quindi, dopo Portimaio eri un po' disappointed per il secondo posto, per il finale, credo che tutto è bene. E anche per la migliorazione. Sì, perché adesso vengo in 47 punti. E credo che possiamo vincere la migliorazione, se vincere la pre-finale. Ok, qual'è la tua strategia per il Charmant Shake? Hai pensato di vincere o di preferire, come in Sarno, di preservare il... No, voglio vincere in Charmant Shake.